Io volevo ringraziarti intanto perché questo appoggio che hai dato economicamente in questo periodo di partenza di Start e avremo già domani, già la settimana prossima ospiti che arriveranno un giorno o l'altro. Tu sei sempre a Gadita qui presente, quando vorrai essere qua con noi, noi saremo felici di ospitarti perché dai sempre dei bellissimi segnali alle imprese e hai grande successo anche sui social dove viene pubblicato queste puntate perché possono essere riviste, LinkedIn, Facebook eccetera con commenti favorevoli dicono bravissimo Maurizio, ma dov'è Giussi? Ecco qui concluderei con questa cosa.